Si aprirà il prossimo 17 dicembre un nuovo capitolo giudiziario per la morte di Martina Rossi, la giovane ligure precipitata all'alba del 3 agosto 2011 dal sesso piano di un hotel di Palma di Mallorca. Nelle aule del Tribunale di Genova, infatti, inizierà il processo a carico di Federico Bassetti e Enrico D'Antonio, gli altri due ragazzi del gruppo dei quattro aretini che quella drammatica notte alle Baleari conobbero Martina Rossi e le sue due compagne di vacanza. Secondo la procura genovese, i due avrebbero infatti mentito agli investigatori per coprire i due amici Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, che in primo grado erano stati condannati a sei anni per aver tentato di violentare la ventenne genovese, costringendola a fuggire e causandone così la morte, visto che Martina precipitò dal balcone della finestra. Sentenza poi ribaltata in appello con l'assoluzione perché il fatto non sussiste. La procura generale aveva così presentato ricorso e adesso sarà la Suprema Corte a porre la parola fine alla storia oppure a riaprirla. Ma intanto a Genova era rimasto fermo il processo a carico degli altri due giovani accusati di aver reso false informazioni al PM durante le indagini, processo che adesso riprenderà. Per il prossimo giovedì, infine fuori dal tribunale, il comitato Vogliamo Verità e Giustizia per Martina Rossi ha organizzato un piccolo presidio di solidarietà ai genitori della ragazza. Con loro ci sarà anche il collettivo autonomo Lavoratori Portuali, di cui fa parte Bruno Rossi, e che in questi anni ha promosso diverse azioni di protesta contro l'assoluzione dei due giovani aretini.